Musica Salute ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie dedicata a Pokémon Survival Island Che cos'è questo gioco? E' un gioco più o meno in stile Crepuscolo, cioè uno di quei giochi Pokémon che escono un pochino dagli schemi In particolare vi presento brevemente il gioco, di cosa si tratta? Si tratta per l'appunto di un gioco Survival, oddio, già con le pronunce raga dovete sapere che io fin da piccolo sono stato abituato a dire Survival E quindi mi sbaglierò 3000 volte in questa serie, però so come si pronuncia In ogni caso ci troveremo su un'isola sperduta a combattere La descrizione di questo gioco, del sito appunto dedicato a questo fangame Parla anche di cose brutte, di morte, di distruzione Non so come sia fatto questo gioco Comunque questo qua è il primo episodio e se volete che la serie continui Mi raccomando lasciate tantissimi bei mi piace E proviamo a raggiungere 200 like per proseguire con questa serie Siccome ve li chiedo perché io non so sinceramente che gioco sia E quindi non ne conosco effettivamente le grandi potenzialità So solo che obiettivamente pare essere bello Però, ok, allora Direi medium come difficoltà raga per iniziare Visto che non lo conosco Magari, non lo so, per non rendere cose né troppo facili né troppo difficili Benvenuto alla sylph.com information in database, ok To access the database you must create Ok, ok, perfetto, bella Queste idea mi è piaciuto un bordello Raga, questi, ah, già inizia benissimo perché se l'idea è fantastica Ci chiamiamo ovviamente Però a sto giro voglio fare l'anarchico E quindi creepy con la k, vai così Confirma employee login for creepy Yeah, motherfucking bro The database return, ok Ci sono, è stato connesso con otto profili Seleziona il tuo profilo Oddio, ok raga è figo È un gioco della madonna Posso scegliere Ok, eh, allora potrei andare a fare il pokemon ranger ignorante raga Oppure potrei scegliere rosso vestito di blu Che è un po' un controsenso però O se no, brendan Però brendan lo sto già utilizzando nella soul link Ma raga io andrei su, su red blu raga Così proprio per rimanere un pochino in tema Rispondi a queste domande di sicurezza Qual è il tuo starter? Ok, oh, no che figo Questa cosa qua è bellissima Enter the name of a pokemon Or type Ehm, devo scegliere dove, dove, davvero Ma tipo, lo starter Suppongo che dover Metto, pip, pip No, non lo so Un pokemon for Trico fa molto foresta Trico, va bene così Come non è un pokemon? Ma come non è un pokemon? Trico, come? Come fai ad essere un Ma come? Ok, calma Non so quali siano gli starter a sto punto Enter the name of a pokemon Or type? Ehm, grass No, no, mai nella vita No, no, no Che schifo Prova di nuovo No, 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 no Tipo scrivessi fire per dire Ok, devo scegliere Ponita E già Siamo già a un buon punto Water Vediamo un po' Attenzione Oddio Ok, fermi Vediamo se ci sono tipo Altri tipi Però l'apras è tanta roba Raga Electric Forse non si scrive neanche così Ok, brevissime interruzioni Possiamo proseguire Qua abbiamo paci risu Ma io raga Visto che non voglio annoiarvi fin troppo Direi di andare ignorantissimi Sulla apras E va bene così Ci va benissimo l'apras Allora Tu mi stai prendendo in giro Ma scusate Io non sto capendo raga L'apras Ok, quindi non andava bene Trico Ma quindi Tu mi stai dicendo Che se io scrivo Che ne so Non ne ho idea Non lo so Non lo so Se scrivo tipo Milotic Così di arroga E no Finchè scrivo Ilotic Milotic Porco Demonio Milotic Ok Pokémon evoluto No, 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 no Che schifo Che schifo No raga Questa cosa qua è bellissima Posso scegliere Mi metti in dubbio Non so chi scegliere Non so veramente chi sce Sì, cazzo No Fermi, fermi, fermi Far Fet C Devi che si scrive così No, no, no Aspetta Non mi ricordo più Come si scrive Far Fet C D Così dovrebbe essere No Non ci credo To complete the process Please type your Employee ID and password Ok, perfetto Employee status Ok, siamo un internato Tipo 18 anni Priorità di accesso Tutte Ok, possiamo andare Nelle aree di sicurezza Perfetto Ok, le informazioni Che stai per vedere Potrebbero essere Molto confidential Non so cosa voglia dire Ci sono un po' di termini tecnici Che potrei non capire In questa In questa serie Tra l'altro vedete Una sidebar Molto banale Però sembrava un'idea carina Mettere gli executor Così, insomma Ok, perfetto Creep is journal day free It's been Urlano Urlano di prepotenza Giovanni Sì, cosa vi dico Che io Chiudo la porta Chiudo la porta Così nessuno rompe le balle Ok, perfetto Adesso se tipo Il gioco mi assale Mi prendo i jumpscare Non posso neanche scappare Ok, stiamo andando in nave Come avete Come Oddio Come avrete visto dal trailer Se l'avete visto Il fatto che arriveremo su un'isola È dato da un incidente navale Ok, abbiamo un unico obiettivo Sopravvivere Ok, eccoci qua Questo qua cos'è? È il nostro starter? Ah, ok Devi prendere un pokex Per prima cosa Va bene Questo qua forse è il nostro starter Ok, questo qua è il pc Il pc di qualcuno Va bene Deposit pokemon Ok, perfetto Non solo uno Giustamente Withdream Ne abbiamo qualcuno? Non mi sembra Mi piace un botto sta grafica Tra l'altro Wow, tre box Davvero Ma io tipo No, no Oddio raga I tasti sono un po' Un fottio Non ho i Ok, noto con piacere Un po' di lag Va bene così Forse è questo il pokex Flora Foundation Una guida Alle piante selvagge Per Strange inventors Inventori stravaganti Tipo Vuoi leggere questo libro? In realtà No, vorrei Il pokex Come si fotte? Crafting Oddio Che è minecraft sta roba No items selected Ok, calma, calma, calma Eh, ok È vero Ma avevano detto Che era tipo un crossover Tra minecraft E Pokemon Però Non pensavo così Ah, vaffanculo C'è una borsa Ok, abbiamo trovato un backpack Otteniamo Oh, le Vediamo i running shoes Ok, perfetto Noto un pochino di lag Ma Forse sono io ragazzi Non è il gioco Lo scopriremo nel prossimo Ok Wait Non ci credo Che cosa bella Raga Che cosa Bellissima Ok, raga Non so voi Ma secondo me Questo gioco Merita tantissimo Vediamo un attimo Le mosse Eh, però Pensavo peggio Una natura Anche decente Tra l'altro Mi stai dicendo Che io devo uscire Prima Leggiamo un attimo La guida Sulle piante Cioè Giusto così Molto velocemente Ah, per Ah, ok Perfetto Ok, sono le nostre Non c'è problema Pensavo fosse qualcosa Di eccezionale Invece sono le Le classiche Piante Zona temperata Piove Puntualmente Mi sembra più che giù Cosa c'è là Ok Siamo nella nostra isola Con un pochino di lag Ma va bene così Una master ball Poison dart Ehm Oddio Sapete che non mi ricordo Come si chiama In italiano Ehm Poison dart Ah, figa Infatti non c'è come strumento È una pistola Pensavo fosse il veleno a cule O forse si chiama in italiano Ah, ok Perfetto Osservateci Non mi ero preparato psicologicamente Un Tile Ok Come livello Punto di domanda Cosa vuol dire? Sta piovendo Oh Proviamo a combattere finalmente Con merda Che ha uno sprite Decisamente terrificante Ragazzi Non volevo dirvelo Però Ok Tra l'altro Madonna Lo scenario di battaglia È uno spettacolo Raga Mi piace un bordello Ok Che inizi la violenza Mi piace Perfetto Sbloccato questo Particolare coso Ok Bacche Perfetto Prendiamo le 5 Oramberry Ragazzi Ci serviranno un bordello Per curare il divino Mamma mia ragazzi Cioè veramente Io non me l'aspettavo Sta roba Non ci voglio credere Tra l'altro Perché non so perché Non ci ho pensato Io a evolverlo Cioè Oddio Cosa sto dicendo Sto delirando Raga Il divino Mi fa delirare Oddio No calma Devo respirare Cioè dicevo Non mi aspettavo Per nulla Sta roba Degli starter Veramente Allora Io però Vorrei fare attenzione Agli strumenti Perché Essendo un gioco Survival Da come Mi è stato descritto E da come dice il titolo Poi tra l'altro Ok Nidoran Perfetto No dicevo Essendo un gioco Di questo tipo Secondo me Gli strumenti Saranno molto utili Nella nostra avventura Allora Peck su questo Nidoran Perché c'è tipo Un rettangolo Di fianco al nome Non lo voglio sapere Muori Scratch Aia Ok No non ci fa Troppo Perfetto Pensavo peggio Peck di nuovo E Nidoran va giù Ottimo così Ottimo 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 A sto punto raga Penso che sto gioco Mi sta piacendo così tanto Che lo porto come serie Indipendentemente dai like Che lasciate Veramente Perché mi piace un fottio Sapete che di solito Quando una cosa mi piace La porto E quindi direi Che questo gioco qua Madonna è uno spettacolo Raga Siamo 10 minuti e 50 Perfetto Gli episodi cercherò Di farli durare Sui 15 minuti circa Insomma In modo tale Comunque essendo giochi Particolari Aia 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 Però il divino Non muore mai Cioè non morerà Un botto di volta In questa serie Ve lo dico Perfetto Livello 6 Ora Diamogli qualche Oramberry Visto che le abbiamo raccolte Facendo però Attenzione ragazzi Non fare la strozzata Che abbiamo fatto All'inizio di poco Un crepuscolo Che è stata praticamente Quella di Buttare cure a caso E poi siamo arrivati Alla fine Che Ce l'avevamo un po' Nel culo Io raga sto Letteralmente viaggiando A caso Ve lo dico eh Oh Sentret Il perfetto Ebola di turno Vai così Allora Su di lui Potrei addirittura Provare un Faricutter Volendo Non una grande trovata Creepy Stories Non una grande Trovata per nulla Pec Defense Curl Ti odio maledetto Devi morire Marcito Non so se si possa Effettivamente Morire Marcendo Basta che non criti Figliano Perché se comincio A critare Realmente posso Invocare pure Il divino Mi ha ascoltato Tra l'altro Raga il divino Femmina Un po' Vabbè Un po' blasfemo Però fa niente Non è importante Sua moglie Ok Io Non so Sinceramente Dove sto Andando Non so Tantomeno Se esiste Una parte Giusta In cui andare Effettivamente L'importante Ok Ok Allora Lì c'è una grotta Con taglio Tra l'altro Mi stavo chiedendo Una mappa Ce l'avrò Mappa Ok Perfetto Jukebox Ok No Perfetto Non abbiamo Una mazza Di minchia Che bellezza Quindi Ok Bellissimo Ma vorrei Togliere Questa Musichetta Che Per carità È Una Me la devo cuccare Un applauso All'artista Però Ragazzi Non è la nostra Musica Lo sapete Cherry Berry Leppa Berry Perfetto Tutto Molto Berroso Ma Direi che Possiamo Anche Cercare Di non Incontrare Un pokemon Ogni tre Passi Che Oddish Ok Forse siamo Entrati In un'altra Zona Particolare Noto Un bosco Un bosco Strano Vediamo di farlo Secco sul posto Non mi colpire Ok Profumino Perfetto È scemo È scemo Nel cervello Va benissimo Così Ragazzi Va benissimo Così Mandato a casa Oddish Perfetto Tra l'altro I crafting Io non so Assolutamente Come farli Livello 7 Wow Fare attack Ci sarà Molto utile Al posto Di send attack Che non userò Mai nella vita No Dicevo Non so neanche Come si facciano I crafting In sto gioco Quindi sinceramente Sono un po' In dubbio Ma qua Mi sembra Che stiamo Entrando In un'altra Zona Quindi Raga Tornerei Indietro Sinceramente E aspetterei Prima di proseguire A sto punto Allora Peck Va giù Perché San carne Ragazzi È il pokemon Con le statistiche Più basse Di tutti i pokemon Esistenti Nella vita Quindi direi Che possiamo Tornare indietro A sto punto Visto che Questa qua Ha una nuova Zona Magari Andare a vedere Insomma Altre zone Cercare qualche Strumento Bellissimo Potrebbe essere Un'idea Tipo quello Perfetto Eccoti qua Sleep dart Ok perfetto Questa qua Ha un'altra pistola Che addormenta Forse le possiamo Effettivamente Utilizzare Come armi Contro i selvatici Nel caso Ci fosse Il bisogno Stretto Diciamo Ok Io di qua Non so bene Dove sto andando Qua c'è un sentiero Che non mi piace Per nulla Però anche questa qua Sembra un'altra zona Ragazzi Quindi direi Che possiamo Spostarci un attimo Qua abbiamo un lago Che probabilmente Sarà esplorabile In futuro Con surf Voglio provare A scappare Però adesso Ragazzi Perché obiettivamente Siamo messi male Con la vita Quando perdi Una battaglia La tua vita Ah ok Perfetto Ma Quindi mi state Dicendo Che anch'io Ho una vita E forse La posso vedere Qua Player healthy Healthy Ok Perfetto Interessante Oh famo una cosa Ragazzi Salviamo E io vi do appuntamento Al prossimo Episodio Che sarà sicuramente Arriverà sicuramente Presto Perché sto gioco Raga mi sta piacendo Un bordello Quindi io spero Che vi sia piaciuto Questo video Se così vi invito Come al solito A lasciare un mi piace Un commento qui sotto Rispondendo a una domanda Del giorno Che non esiste Quindi ho detto Una grande stronzata Mi raccomando Iscrivetevi al canale Passate dai social In descrizione E premete la campanella Che ho scoperto Ragazzi Che non è in alto a destra Quando vedete i video Ma è qua sotto Di fianco al nome del canale Mi raccomando Premetela Per rimanere sempre Aggiornati sui feed Che youtube Manda Detto ciao Noi ci mettiamo In un prossimo Video